il presepe dice il professor bellavista per noi napoletani è una cosa veramente importante lei ingegnere mi scusi preferisce il presepe o l'albero di natale il presepe ovviamente e ne sono contento per lei dice il professore bellavista stringendogli la mano veda gli esseri umani si dividono in presepisti e alberisti e questa è una conseguenza della suddivisione del mondo il mondo d'amore e mondo di libertà ma questo è un discorso lungo che potremo fare un'altra volta oggi invece vi vorrei parlare del presepe e dei presepisti forza professor dice salvatore parlateci del presepe che qua stanno i ragazzi vostri dunque come vi dicevo la suddivisione in presepisti e alberisti è tanto importante che secondo me dovrebbe comparire sui documenti di identità come il sesso e il gruppo sanguigno e già per forza perché altrimenti un povero dio rischierebbe di scoprire solo a matrimonio avvenuto di essersi unito con un cristiano di valori completamente diversi da quello del presepista no noi qua in questa casa dice saverio siamo tutti presepisti è vero professor e no non tutti mia moglie e mia figlia ad esempio come quasi tutte le donne sono alberiste tra le due categorie non ci può essere colloquio uno parla l'altro non capisce la moglie vede il marito intento a fare il presepe e dice ma perché invece di appuzzolentire la casa con la colla di pesce il presepe non lo vai a comprare il giambello e fatto allupim il marito non risponde e già perché allupim si può comprare l'albero di natale che è bello solo quando è finto quando è pieno di luce accese il presepe invece no il presepe è bello quando lo fai o addirittura quando lo pensi adesso viene natale e facciamo il presepe quelli a cui piace l'albero di natale sono solo dei consumisti il presepista invece bravo non bravo diventa creatore ed il suo vangelo è natale in casa copiello professor io l'ho visto natale in casa copiello e mi ricordo quando eduardo dice o presepe l'ha già fatto tutti sul e contrastato dalla famiglia i pastori continuo a bella vista debbono essere quelli di creta fatti a mano un poco brutti ma soprattutto nati a san gregorio armeno nel cuore di napoli e non quelli di plastica che si vendono allupim e che sembrano pure finti i pastori debbono essere quelli degli anni precedenti e non fa niente se sono un poco scassati l'importante è che il capo famiglia li conosca uno per uno con loro nome e che per ognuno sappia raccontare un bello fattariello papà mio dice luigino quelli un poco scassati li riusciva sempre a mettere in maniera tale che poi nessuno si accorgeva che tenevano un braccio o una gamba in me mi diceva luigi adesso papà trova una posizione strategica per questo povero pastoriello che ha perduto una coscia e lo piazzava dietro una siepe o dietro un muretto papà mio mi ricordo che le casette le faceva con le scatole delle medicine e poi dentro ci metteva una lucina e quando durante l'anno io mi dovevo prendere una medicina per esempio uno sciroppo che non mi piaceva allora lui prendeva lo scatolino e mi diceva luigi questo scatolo ce lo conserviamo per quando viene natale che così ne facciamo una bella casetta per il presepe tu però per le papà devi finire prima la medicina che ci sta dentro se no papà la casarella come la fa e poi quando veniva mezzanotte continua salvatore ci mettevamo tutti in processione il più piccolo della famiglia avanti con il bambino gesù e tutti quanti dietro con una candela accesa fra le mani e giravamo per tutta la casa cantando tu scendi dalle stelle questo è il mio augurio per questo natale un natale di sorrisi e di speranza per tutti